La Design Week II F il settimanale femminile di Cairo Editore che per il secondo anno in occasione del fuorisalone, propone conferenze, ospiti e sorprese, nel cuore del Brera Design District, con i nomi più importanti del design oltre a workshop di facile ristrutturare per realizzare un progetto in 3D per adulti. Quelli di OVS dedicati ai bambini, momenti di interazione con le lettrici, il DI Lunga set curato tutte le sere dai DI Lunga di Radio Monte Carlo, Laura Valentini, Loira Linda, Karin Dei Ponti, Patrice e Arlie Muscle, e gli show cooking firmati dallo chef Lamantia, all'interno della galleria d'arte Roberta e Basta, via Marco Formentini 4-6, trasformata in una lounge dove il design incontra un esclusivo mondo grand. Tutti appuntamenti gratuiti a ingresso libero fino ad esaurimento posti, ad eccezione del DI Lunga set serale di venerd' 20 aprile. Una serata, solo su invito, che vedrà, oltre a vari DI Lunga, la partecipazione di Malika Eain. La cantautrice, che sta ultimando il suo nuovo progetto discografico, sarà eccezionalmente dietro alla console per un cocktail party davvero speciale. A scandire ogni giornata gli incontri su un tema sempre diverso, Marte 17 sul rapporto fra design e food. Se ne parla alle 15 in Nutrirsi di design con Luciano Galimberti presidente di Adi, alle alle 16, 30 incontro il colore di Pigusto Conegliano Agliotta, giornalista autrice della dieta Smart. Questo piatto mi emoziona alle 17, 30 vede invece protagonisti Filippo Lamantia e la blogger Chiara Maci. Tema al centro della giornata di Mercoled Green Thinking, confronto fra gli esperti sull'eco-sostenibilit come modo di vivere la contemporaneità fra interpretazioni architettoniche e grandi giardini della tradizione, alle 15 l'incontro a razzi verdi e disegnare con le piante Patrick Blemms, paesaggista e botanico e Faglio Pollano, agronomo e paesaggista, alle 16 ghiaccio e natura, i mattoni del futuro con Francesca Cesa Bianchi, Project Direct Boeri Architetti e Stefano Pugliatti, architetto elastico spa. Alle 17 l'Italia un grande giardino con Giudith Wade e presidente Grande Giardini Italombroso. Alle 18 Floues, Form, Fashion, con Bruno Bugiani, direttore creativo di Manifesto Floues. Al centro della giornata di giove 19 aprile invece abitare la casa e la città con nomi illustri del mondo del design. Laura Angius fondatrice di Love Design, Vicky Sirio Poilue Art Director di Oikos e l'interior designer Stefania Passera per l'incontro dal titolo Sognare, progettare, scegliere il momento dell'acquisto alle 15. Massimo Roy, architetto progetto CMR e Daniele Lago Direttore creativo di Lago Design sono invece i protagonisti alle 16 dell'incontro dal titolo dal cucchiaino alla CIT mentre alle 17 si parla del rinascimento di Milano una CIT dinamica e in evoluzione con il presidente della triennale Stefano Boeri e con il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne. Alle 18 la presentazione di In Viaggio Speciale Milano con la direttrice del mensile Emanuele Rosa Clot. Le incursioni del design in moda e li festi sono il tema di venerd' 20 aprile, per riflettere sulla creativit come stile di vita. Si inizia alle 14 con Green Beauty, i segreti della tendenza naturale spiegati e dalla hair stylist Franco Curletto. Alle 16 la sustainability di moda con Caterina Salvador, fashion director donna e bambina di OVS. Alle 18 design sensoriale con il designer Stefano Giovannoni e Giampaolo Re, ad immagina art of fragrance. I grandi nomi del design e del Made in Italy invece racconteranno sabato i cambiamenti di Milano, una CIT da vivere, fra gli ospiti Giovanna Castiglioni, figlia del maestro Achille e vicepresidente della Fondazione Castiglioni, alle 14,45 con i designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba che parleranno di Milano, capitale del design. Le CIT del futuro sono invece il tema di Massimo Roy alle 15,30 mentre alle 16,30 l'architetto Paola Marella sarà all'incontro a casa con stile a chiudere la settimana, domenica 22 aprile alle 1130, il workshop di OVS per i pipiccoli e alle 17 lo show cooking di La Mantia.